Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo Tra le migliori blue chip di piazza affari, su di giri Juventus, più 4,04% Lo spread migliora, toccando i più 265 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,42% Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le vendite al dettaglio, pari a 0%. In Francia, pubblicata la produzione industriale con valore pari a 0,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della variazione occupati e del tasso di disoccupazione Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 7.313,5 punti Grazie a tutti!